Carissimi, carissimi amici, buongiorno. Torna la rubrica che ha avuto tanti successi a cuore aperto, questa rubrica che ho ideato per fare in modo di interagire con voi con delle domande e con delle risposte. Quindi nella giornata di oggi scrivetemi nei commenti le domande, gli argomenti, qualcosa in particolare, qualcosa anche di personale, di specifico, qualche tema sociale, qualche vostra problematica, in modo che io vi esprima la mia opinione e ci portiamo un reciproco contributo di azicchimento perché penso che il confronto serva proprio a questo. Io vi porto la mia esperienza, l'esperienza della mia vita per come io penso e certamente sono più io che mi azicchisco da voi che voi da me, però il confronto è sempre bello. Quindi facciamo in questo modo, nella giornata di oggi io farò raccogliere almeno una quindicina, 20-15 quesiti, non tantissimi perché altrimenti il video dovrebbe essere di mezz'ora, però cercherò di fare un video abbastanza lungo per rispondere a quanto più quesiti possibile ed esprimere l'idea. Poi questi li raccoglierò fino alla serata e domani mattina posterò questo video di riscontro, di risposta. L'altra volta, come prima volta, è stato un buon successo perché ci sono state circa 5.000 visualizzazioni. Spero che il format trovi successo e in attesa pure di fare qualche volta la live. Però la live, diciamo, ho dei problemi tecnici ancora da risolvere, però questo format lo trovo comunque interessante perché da modo nel corso di tutta la giornata, anche a chi non sta in quel momento, diciamo, in live, di posere dei quesiti, dei problemi, dei dubbi di vario genere, sulla vita, sull'amore, sulla felicità, sull'amicizia, su problemi vari e ci confrontiamo. Quindi, mi raccomando, partecipate in tanti e poi il video di risposta, diciamo, domani in mattinata. Grazie, quindi, sempre dell'attenzione. Questo è veramente un canale che mi sta dando tante soddisfazioni perché ho conosciuto indirettamente, diciamo, tanta bella gente, tante persone che veramente a volte mi avete commosso con i vostri commenti che sono tutti positivi e da tutti i commenti traspare, diciamo, un affetto, un amore, un'amicizia che io mai avrei immaginato. Quindi, grazie della partecipazione e a domani un abbraccio a tutti. Ciao!